Musica Lavoratori buongiorno, la direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate la sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze. E non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro. Musica Andare, camminare, lavorare. Andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite. Niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fuga, rapide fuga, rapide fuga. Andare, camminare, lavorare. I prepotenti, tutti chiusi a chiave. I cani con i cani nei camini. Le rose sui balconi. I gatti nei coltini. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Dai! Lavorare! E che cos'è questo fuoco? Pompieri, pompieri, poiché siete seri, puntuali. Spendete questi incendi dei conventi, nelle anime, nelle banche. Andare, camminare, lavorare. Queste cassaforti che infernale invenzione. Viva la ricchezza mobile. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare, lavorare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Il passato nel cassetto chiuso a chiave. Il futuro ha pronto calcio per sperare. Il presente per amare. Non è il caso di scappare. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Dai! Lavorare! Nutriamo il lavoro. All'è! Gli agnelli a pascolare con le capre. Fra i nitriti dei cavalli. Questi rumorosi. Questi rumorosi. Figli lati tutti. Da truppe di pastori. Andare, camminare, lavorare. Niente paura. Azzurri, azzurri. Attaccare, attaccare. Attaccateli a calci nel sedere. Calciare. La domenica tutti sul bordoio a pedalare. Andare, camminare, lavorare. Lavorare, pedalare. Lavorare. Con i contanti. Nell'osteria con i contanti. Con tanti, 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 tanti auguri agli sposi. Andare, camminare, lavorare. La penisola in automobili. Tutti in automobili al matrimonio. All'è! La penisola al volante. Questa bella penisola. È diventata un volante. Andare, camminare, lavorare. 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 Lo studente, lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno quando è buio e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Ma è sto pro forma. Allora io dico. Cioè che ci siamo? Perché non lo raddoppiamo questo cotimo? Eh? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca. E noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste quattro lire migliacche fino alla morte.